Morigenati sicuramente è un'esperienza, un'esperienza importante, un piccolo modello che credo che possa essere condiviso con altre realtà. Io dico sempre, quando faccio questi piccoli interventi che mi portano, l'ho detto, sono stato due settimane fa ospite alla Facoltà di Ingegneria a Napoli, dico sempre un po' la stessa cosa. Ogni paese ha una storia da raccontare. Bene, a questo punto noi dobbiamo avere la capacità di raccontarlo, ma soprattutto anche di individuare a chi si va a raccontare la nostra storia. Io ho cercato solo nella mia esperienza di piccolo amministratore, di una piccolissima realtà, di sostenere questa storia, di costruirla insieme a quelle che sono i protagonisti. Cioè allora oggi questo comune ha una bellissima esperienza. Ecco, questa esperienza deve chiaramente rientrare in una rete. Perché a questo punto è importante costruire la rete, signor Petro? Perché oggi, sono un po' di anni che mi sono avviato, questa è un'esperienza importante dove la cultura rurale deve essere fondamentale per la crescita del nostro territorio. Cioè, per me va bene il turismo di rimessa, c'è il turismo quello balneare e noi in effetti dall'altra parte andiamo soltanto solo ed esclusivamente a recuperare questi momenti. Ma noi abbiamo il dovere, questa è un'altra capacità, di creare un'altra forma di turismo. E io sono tra quelli che ci credo questa forma di turismo. Un turismo che fa riferimento a questi momenti. E questo è uno di questi, cioè in questo momento del recupero della tradizione fondamentale, noi che cosa abbiamo fatto nel nostro piccolo? Abbiamo cercato di ricostruire il rapporto con le comunità, anche quello è fondamentale. Chi un po' di anni fa non ha deciso perché era felice di quella scelta, ma ha deciso purtroppo di fare altre esperienze. Bene, allora con queste persone bisogna andare a recuperare questo rapporto. Noi siamo riusciti a recuperarlo, quest'anno ho avuto una bellissima risposta, cioè abbiamo avuto un ritorno molto forte da parte di una comunità che sta lontanissima in Brasile. Ebbene, questo è un altro di quegli elementi fondamentali, quindi la ricostruzione con il rapporto con le comunità che vivono fuori.